Buongiorno signori, sono Alessio della Romus 3 Immobili Esclusivi e oggi sono davanti Piazza Cina, diretto a Via Deserto del Gobi, per presentarvi un nuovo appartamento in affitto. Si tratta di un ampio bilocale già arredato e ristrutturato. Andiamo a vederlo? Ci troviamo nella parte più verde e residenziale del Torrino Sud, Piazza Cina alle mie spalle a tutte le attività commerciali e di servizi che potete desiderare. Inoltre, da qui a pochi minuti, arriviamo a Mostacciano, Leur e alla via commerciale di Grande Muraglia. Siamo vicini a tutti i più importanti collegamenti come la Cristoforo Colombo, lo Stiense e il grande raccordo anulare. Siamo a 4 chilometri dalla fermata della metro B Magliana. Con gli autobus 078 e 777 raggiungiamo Leur ed il Torrino. L'immobile è in un palazzo con cortile, garage e servizio di portineria. Entrando in casa troviamo questo piccolo ingresso con armadio a muro. Questo ampio spazio di 11 metri quadri e mezzo è letteralmente sfruttabile come zona pranzo e spazio vivibile. Compresi nel prezzo troviamo anche una cantina di 4 metri quadri ed un comodo posto autocoperto. La cucina è in una posizione molto discreta adiacente l'ingresso, è stata rinnovata circa un anno fa ed è in ottime condizioni e dotata di tutti gli elettrodomestici. Le spese condominali sono di 118 euro mensili che comprendono acqua, servizio di portineria e manutenzione dello stabile. Buona parte del mobilio della casa è completamente nuova. Il soggiorno è confortevole e molto luminoso ed accede direttamente al balcone vivibile. Il bilocale si affitta con contratto a canone concordato e tassazione agevolata ed è l'ideale per una coppia che voglia vivere in un contesto tranquillo e silenzioso e comunque centrale e ben collegato. Il balcone misura circa 9 metri quadri, pienamente vivibile e possiede un affaccio ampio e luminoso soprattutto nel pomeriggio. Il bagno è dotato di box doccia e luminatura, areatore e vano per la lavatrice. La camera è doppia e misura circa 15 metri quadri, anche da essa accediamo al balcone. Il bilocale è in ottime condizioni. Troviamo infatti pavimenti in ceramica, porta blindata con doppio paletto, infissi in pvc con doppio vetrocamera, grate anti-intrusione, tapparelle elettriche in tutta casa, impianti elettrico idrico già rifatti, decori eleganti in effetto travertino nel bagno e i condizionatori Mitsubishi a pompa di calore. E anche per oggi da deserto del Gobbi è tutto. Io vi ringrazio e vi ricordo che come al solito questo video sarà pubblicato sul nostro sito www.romus3.com e su tutte le nostre pagine social che come al solito vi invito a seguire. Ci vediamo al prossimo video, ciao!